Ciao, Alessandro. Ehi, Deda, Camilles. Quello che mi chiedo è perché Carel sia ancora più delibere. Io ho sentito che era all'estero, negli Stati Uniti, dalle parti di Boston. È una storia molto costruttiva. E la tenere presente quando uno decide che fa un passo indietro. Alessandro non riesce a trovare un suo posto in azienda. Deda scopola con un altro. E lui cosa fa? Lui ha avuto indietro i soldi. Un mese prima del crollo. Rimborsati fino all'ultimo centesimo da Carrè. Beh, si fa così quando bisogna metterlo in culo la gente. E li vedi che siamo tutti impazziti? Vado a fumare una sigaretta. Hai permesso? Alla signora non piace stare con me. Tutti avevano un'idea. E tutti avevano bisogno della banca. Stato! 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 Cosa sono per voi? Un fantasma? Un marziano? I ghiacchi! I ghiacchi! Farabunti e ladri! Vai! Ladri!